Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, Polospal07, e anche oggi parliamo di SPAL. Sigla! SPAL Milan 04, disastro su tutti i fronti. La cronaca della partita, secondo minuto, manco a dirlo, la SPAL è sotto. Un calcio d'angolo del Milan, un cross in aria sul secondo palo, c'è la Noglu, l'ho lasciato completamente solo, colpisce di testa, corta respinta di Emeret e Cutrone in sacca. Ormai credo sia uno schema, quello della SPAL di prendere gol al secondo minuto, al primo minuto, perché è già la terza volta che capita, ma battute a parte, lì per lì la reazione della SPAL un pochino c'è stata. Abbiamo tentato di attaccare il Milan, soprattutto sulla fascia destra, trovavamo comunque qualche spazio, tant'è che verso metà tempo una punizione di Viviani, molto ben calciata ad una Roma fermo, c'entra il palo ed esce, quindi anche oggi il nostro palo su punizione l'abbiamo preso, e di fatto termina 0-1 il primo tempo. Invece il secondo tempo ha visto un dominio assoluto su tutti i fronti del Milan, che ha raddoppiato con la prima doppietta di Cutrone in Serie A, su una corta respinta di Emeret che poteva assolutamente far meglio, poi il terzo gol è una roba da censura, un Meret da palla a Viviani che la perde lì davanti all'area, Biglia calcia a giro, Meret non va giù bene, e comunque è un tiro anche angolato e bello di Biglia, e il risultato diventa 3-0. La SPAL si scioglie perché non c'è più schema che tenga, e prende anche il 4-0 su Montolivo ne ho entrato, filtrante per Borini che non ci pensa due volte calcia col sinistro all'incrocio dei pali opposto, questa volta non poteva assolutamente niente, dunque primo gol anche di Borini quest'anno in campionato. Io sono abbastanza, intanto sono arrabbiato sicuramente, ma sono anche molto preoccupato, perché soprattutto per l'atteggiamento del secondo tempo, la SPAL ha avuto lo stesso identico atteggiamento di Cagliari, uguale identico, se nel primo tempo la reazione c'è stata, nel secondo tempo sembrava quasi che la squadra fosse sfiduciata, che fosse scontata la sconfitta, corricchiavano, in attacco non trovavano trame, in difesa gli schemi sono completamente saltati, e questa è una cosa veramente preoccupante. Anche lo stesso Semplici ha inizialmente schierato lo stesso modulo, lo stesso tema tattico contro l'Inter, solo che questa volta la partita siamo andati sotto praticamente subito, quindi diciamo che il piano è andato un po' a quel paese, e dunque ha dovuto cambiare completamente il piano tattico e si è visto che non ha funzionato. Poi anche i cambi, secondo me, questa volta li ha messi su senza filo logico, non mi hanno convinto neanche pienamente i cambi, ma non è solo di semplici la colpa, ma anche soprattutto i giocatori che sono entrati in campo con una determinazione, soprattutto nel secondo tempo, veramente molto bassa, e al di là dei limiti tecnici, perché io sono conscio dei limiti tecnici della squadra, che di fatto è una squadra che con un doppio salto metà squadra arriva dalla Lega Pro, e posso capire anche, nonostante tanti cambi che sono stati fatti, che i limiti tattici si siano, ma io non vedo proprio quella grinta che una squadra ha, che deve mettere in campo per salvarsi. Nel secondo tempo corricchiavamo, non cercavamo gli schemi, non lottavamo sui palloni, non ho trovato, cioè, per me è una squadra che deve salvarsi, anche se esce sconfitta, anche se esce retrocessa, ma comunque deve uscire stanca e coi crampi, secondo me, e la SPAL questo non lo sta facendo. Crotone-Atalanta, peraltro, è appena finita 1-1, quindi il Crotone ha fatto un altro, ha staccato di un altro punto la SPAL, ma stava addirittura vincendo il Crotone, che comunque sui palloni ci lotta, quindi, secondo me, manca proprio, ma manca proprio, non lo so, manca qualcosa, manca veramente qualcosa questa squadra. Forse non siamo forti come pensavamo, forse, non lo so, non lo so cosa possa essere, ma, sinceramente, io sto cominciando a finire le idee, e sono preoccupato, perché questa stagione, secondo me, sta veramente prendendo una piega inquietante, e una piega abbastanza brutta. Bene, ragazzi, se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, condividetelo, scrivetemi nei commenti, cosa ne pensate di SPAL Milan, e di come si sta generando la stagione della SPAL, io vi ringrazio, come al solito, tutti i commenti che mi lasciate, condividete il video dove volete, e noi, come al solito, ci rivediamo al prossimo video. Sempre forza SPAL.